Nell'ottobre del 1989, 43 donne nel mondo partorirono. Nessuna di queste donne era incinta all'inizio della giornata. Quanto vuoi per questo? Io ho adottato sei bambini dotati di abilità che vanno molto al di là del normale. Vi presento l'Umbrella Academy. A qualcuno di voi andrebbe di parlare? Lui era un mostro. La nostra vita è insensata. Lui è da sempre. Quella non è la mia gonna. Sì, questa. Fa in modo che respirino le estremità. Ok, non è cambiato nulla. Quando sono rimasto bloccato nel futuro... Sai che cosa ho trovato? Assolutamente niente. Quando dovrebbe arrivare? Tra otto giorni. Oh, cazzo. C'è qualcuno là fuori che deve essere il responsabile dell'Apocalisse. Ci sarà bisogno dell'Academy al completo. Bingo. C'è in sorella? C'è in sorella. C'è in sorella. Alzati, andiamo. Dove? A salvare il mondo. Ah, tutto qui.